sembra di essere in un pollaio Leopold me l'aveva detto di non venire sono molto pentita di essere venuta d'altra parte quando uno è abituato alla vita di transatlantico come me ritrovarsi qui c'è poco da ridere ah mi rivedo sulla mia bella sedia sdraia con un buon libro di Magali sulle ginocchia e il tenente che mi faceva l'occhialino Leopold mi diceva di no ma non aveva visto tutto che pezzo d'uomo forse avrei dovuto incoraggiarlo un po' di più ma l'America non si incontrano certo delle germane e la zeringa le disprezzo tutte è gente cheap gente che non sa vivere gente da non frequentare va tenuta nascosta noi altri non facciamo più parte di questo libro e non ci rimetteremo mai più piede Dio